Gli amici della vedeta ammirata tra tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata dell'ora soggiorno. Prima mi hai chiesto una domanda, poi vestemmi in diretta, eh? Ciao, ti saluto, vai! L'università poi secondo me è un percorso che arrivi alla fine e ti danno quel foglio in mano, ma se tu non ti ricordi niente di quello che studi, cosa ti rimane? Quel foglio, e poi? Alta marea! Questa è quella maleducata dell'altra volta! I miei sentimenti hanno raggiunto un livello patologico e non posso sedurre nessuno se sono malato! Mia mora! Carmen Sita, amore mio, io sono uomo d'affari, brinda la supercazzo, la prematurata, non è una cosa da segni, tapioca, tapioca, terapia, dollari, sterline, allaccia, scarpa, scarpa, allaccia di cosa, albergo! Non ero ubriaco, reggo molto bene l'alcol! Albergo! Dignitosamente brillo, dignitosamente brillo! Quante strati ho passato nella vostra splendida Sicilia, dall'Etna alle spiagge di Taormina? Un euro al giorno, puoi fare almeno di un caffè al bar! Signore, questo è un vecchio amico mio! È lo splendore dei tuoi occhi! I miei amici sono siciliani! Mi scusi, anteni come se fosse di scappellamento, terapia di tapioca, scappellamento di forestieri! Sì, è quella! Presto cantiamola! Avete la mia completa attenzione! C'è una canzone, si fa con la bocca, che fa dei versi, non è filastrocca, che fa dei suoni, non ha un ritornello, però cantarla è davvero bello! E canta! E canta! Ha 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 ha! Poi canta! E he 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 he! Poi canta! I he 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 he! E canta! Oh 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 oh! Poi canta! Uh 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 uh! E poi quando ti stupa, non canta più! C'è una canzone, si fa di mattina, la sera in bagno, di notte in cucina, per qualche cosa oppure per niente, ma se la canti in modo la sei! E canta! Ha 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 ha! Poi canta! E he 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 he! Poi canta! I he 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 he! E canta! Oh 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 oh! Poi canta! Uh 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 uh! E poi quando ti stupa, non canta più! E canta! Ha 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 ha! Poi canta! E he 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 he! Poi canta! I he 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 he! E canta! Oh 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 oh! Poi canta! Uh 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 uh! E poi quando ti stupa, non canta più! E poi quando ti stupa, non canta più! E poi quando ti stupa, non canta più! mi raccomando ogni pillola va messa dentro il flacone giusto di quale prodotto si tratta canna grano o riso prezzo che il tempo scade il tempo è scaduto ragazzi lo dico io